Musica Incidente oggi sabato 16 dicembre intorno alle 15 in via Riva Rossa frazione Argentera di Rivarolo Canavese. Una Fiat Punto condotta da una 52enne di Rivarolo Canavese è uscita di strada finendo nel fossato che costeggia la carreggiata adeggiata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo e Ivrea, la Croce Rossa di Rivarolo, i carabinieri della radiomobile di Ivrea e gli agenti di polizia locale. La donna è rimasta illesa e è stata accompagnata al pronto soccorso per controlli. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura che è stata sollevata dal fossato prima che causasse un danno ambientale con la perdita dei liquidi dal motore. Calermate Appria Quattro Pencro Quattro Grazie a tutti.